Avvocato Teso, da più parti i commercianti lamentano regole chiare che mancano dal governo per quanto riguarda le responsabilità se un dipendente contrae il coronavirus. La legge in questo senso cosa dice al momento? La situazione è effettivamente molto delicata e anche abbastanza complessa perché il decreto legge e cura Italia, il decreto del 17 marzo scorso, all'articolo 42 ha stabilito chiaramente che nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro il medico certificatore redige certificato di infortunio, cioè questo ha parificato la malattia da coronavirus a infortunio sul lavoro. La conseguenza evidente è che in caso di infortunio sul lavoro ci può essere responsabilità del datore di lavoro che quindi può essere chiamato dall'INAIL in regresso a risarcire quanto l'INAIL ha versato al lavoratore a causa dell'infortunio barra malattia. Sappiamo che è una malattia molto grave che può avere esiti anche disastrosi e quindi possiamo immaginare che il terrore dell'imprenditore è di poter essere coinvolto in una situazione del genere. Una situazione tra l'altro definita pandemica per cui è evidente che dimostrare il luogo in cui l'infezione si è verificata è quanto mai difficile se non impossibile in sostanza. Io potrei aver preso la malattia sul posto di lavoro ma anche a casa da mia moglie e miei figli o al supermercato mentre faccio la spesa. E non è dimostrabile. Non è dimostrabile. Per questo l'INAIL si avvale di presunzioni. La presunzione è una deduzione logica per cui da un fatto noto io desumo l'esistenza di un fatto ignoto. La presunzione cosa dice? Se il lavoratore che si infortuna o si ammala è un lavoratore esposto a elevato rischio sanitario, un infermiere o un medico, c'è una presunzione di responsabilità del datore di lavoro proprio perché questa esposizione è così pressante che il rischio di aver contratto il virus sul posto di lavoro potremmo dire è molto elevato e appunto si presume la responsabilità del datore di lavoro. Non c'è questa presunzione invece nel caso in cui i lavoratori non siano soggetti in cui il rischio sanitario è elevato. Quindi possiamo pensare all'operaio in catena di montaggio. L'INAIL però estende questa definizione di soggetto esposto e l'ha parificato all'operatore sanitario anche i soggetti che hanno una frequenza, un contatto con il pubblico particolarmente intenso. Da qui ad arrivare a dire che può essere a rischio sanitario elevato anche il cassiere di un supermercato, l'addetto alla receptionist di un albergo o comunque chi lavora dietro il banco di un bar, capite che significa addossare al datore di lavoro un rischio elevatissimo in cui la prova contraria è quanto mai difficile. Le associazioni di categoria sono in sorte su questo per dire oltre ad avere gli esercizi chiusi, rischiamo domani che apriamo di dover rispondere anche di un risarcimento notevolissimo per una malattia che può essere stata presa anche altrove e non sicuramente, non certamente sul posto di lavoro. Pressati da queste esigenze, da queste lamentele, il governo è intervenuto ieri, è intervenuto però informalmente in conferenza stampa, è intervenuto il sottosegretario al lavoro Stanislao di Piazza che ha dato un chiarimento verbale, sicuramente non è la soluzione del problema, però intanto è un primo chiarimento e oggi possiamo dire questo, che la responsabilità è ipotizzabile, secondo il sottosegretario, solo in via residuale, nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori e in particolare di quelle emanate dalle autorità governative per contrastare l'emergenza. Questo cosa significa? Che se il datore di lavoro si è adeguato ai protocolli di sicurezza sottoscritti dalla regione Veneto, per esempio nel caso nostro, dai sindacati e ha dotato i lavoratori degli strumenti di protezione, ha fatto soprattutto l'informazione che è essenziale, importantissima, la presunzione non opera. Quindi il datore di lavoro è liberato da questa presunzione di colpa, si è dato adesione e quindi ha fatto tutto quanto era nel suo potere al sistema delle regole che è stato adottato in questo periodo, in questo frangente. Quindi la soluzione al momento per stare più tranquilli per i datori di lavoro dovrebbe essere adottare scrupolosamente quelle che saranno le disposizioni in termini di sicurezza sulle aree di lavoro. Sì, assolutamente, questo è quello che possiamo dire oggi, perché il ministro, il sottosegretario è chiaro, dice che il rispetto puntuale del set di regole messo a punto è in grado di evitare che all'imprenditore possano essere effettuate contestazioni anche di natura penale. Chiaramente questa non può essere la soluzione, perché non è una legge, è una risposta data da un sottosegretario a un question time. Però questo è il primo indirizzo. Ovviamente quello che tutti gli operatori auspicano è che ci sia una norma che chiarisca questa situazione. Vero che siamo in una situazione eccezionale, ma come ha detto l'altro giorno la Presidente della Corte Costituzionale, Marca Cartabia, non esiste un diritto eccezionale per situazioni eccezionali. Il diritto è diritto e le norme devono essere chiare e comprensibili. Quindi noi attendiamo un chiarimento normativo sul punto.